Abbiamo perso per causa di errori che fino ad adesso non abbiamo commesso in partite passate. Purtroppo la squadra pensava di dare il meglio oggi, ma siamo partiti non tanto cari. Purtroppo non c'è stata quella aggressività che ci aspettavamo tutti e che si aspettava soprattutto in mista. Abbiamo provato al meglio questa partita sapendo comunque di affrontare un'ottima squadra che abbiamo già affrontato negli anni precedenti in Serie B. contro la quale abbiamo sempre rispettato delle ottime partite. Le partite l'abbiamo persa a causa di nostri errori e come è sempre una partita è un inizio a rilento. Non c'è mancata alla fine la zampata finale come ormai ci contraddistingue. Noi ci aspettavamo una partita dura, comunque in ogni caso abbiamo affrontato la partita probabilmente non col piglio giusto, caratterialmente siamo entrati un po' molli in campo. Il risultato alla fine è stato giusto, abbiamo commesso degli errori che solitamente non commettiamo che ci hanno pregiudicato il cammino.